Un film che si sta rilevando un capolavoro miracoloso, raggiungendo dei risultati che forse non riuscivo neanche ad immaginare. Quando sono stata contattata dalla produzione perché mi aveva manifestato questo interesse verso la produzione del film, io ho accolto veramente con un tesasmo questa notizia perché mi sono resa conto che sin da subito come può educare, arrivare un film a sensibilizzare una coscienza, non potevo farlo io con tutto l'attivismo sociale che mi porta avanti da dieci anni a questa parte. E infatti i risultati mi stanno dando ragione di questa intuizione, per cui ho dato l'assenso veramente con felicità, perché quello che abbiamo condiviso sin da subito è fare del film uno strumento educativo che potesse arrivare soprattutto alle scuole e soprattutto alle famiglie. E' stato puntato un faro per cui i ragazzi non si sentono più invisibili, è stata strattonata la giacca all'adulto, alla sua indifferenza, per cui adesso il passo in avanti va fatto da ciascuno di noi.